A Fragagnano sono partiti i lavori di riqualificazione della Taranto-Lecce, strada statale 7 Ter, arteria di fondamentale importanza per gli automobilisti e principale via di comunicazione tra il capoluogo ionico ed il versante orientale della provincia, interventi cantierizzati da tempo dall'amministrazione comunale. Un progetto importante di oltre un milione di euro che porterà a un rifacimento completo di tutti i marciapiedi, in entrambi i lati ovviamente, con arredo urbano, quindi panchine, dissuasori per agevolare il passaggio dei pedoni, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale anche, quindi un progetto vasto che mira sia a migliorare la sicurezza stradale che chiaramente il decoro urbano. Finanziati come? Sono finanziamenti della Regione Puglia, ovviamente di natura comunitaria, che poi vengono veicolati dalla Regione Puglia, li abbiamo acquisiti qualche anno fa, come sappiamo i tempi poi burocratici per arrivare dall'ottenimento del finanziamento alla realizzazione dell'opera si dilatano notevolmente. Fine dei lavori? Fine dei lavori mi dicono sei mesi, per l'estate dovremmo avere una tarantoleccia completamente riqualificata.